L'Aula di Palazzo Cesaroni ha approvato all'unanimità la mozione dei consiglieri Leonelli, Partito Democratico e Rometti, socialisti e riformisti, per la riconversione della centrale di Bastardo e la tutela dei posti di lavoro. Con l'atto di indirizzo illustrato in aula da Giacomo Leonelli, si prende atto dell'accordo sottoscritto tra Comune di Gualdo Cattano e Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Perugia, che in un'ottica di riconversione e nuovo impiego della centrale ha elaborato un progetto in cui si ipotizza una produzione non inquinante della struttura e la riconversione della centrale in due parti, un centro energetico e un distretto industriale. Si potrebbe quindi dare luogo alla creazione di un impianto non inquinante che favorisce lo sviluppo delle energie rinnovabili, contribuire alla stabilità della rete elettrica e alla riduzione del costo dell'elettricità, usufruire di finanziamenti per la ricerca. Mentre attraverso la costruzione del distretto industriale si avrebbero impianti industriali o commerciali ad alta sostenibilità, impianti fotovoltaici, energie a basso costo che potrebbe essere usata anche per il trasporto, come per auto elettriche o a idrogeno. Ai contenuti della mozione sono stati inclusi altri emendamenti su impulso dei consiglieri Ricci, Ricci presidente e liberati Movimento 5 Stelle, rispettivamente per approfondire anche attraverso la promozione di un concorso di idee le linee guida di riconversione più opportune per un adeguato ed economicamente sostenibile piano di fattibilità industriale e per avviare un tavolo permanente con i comuni interessati ed Enel ai fini della valutazione di un piano di riconversione compatibile con l'attuale vocazione dell'area.